Coppa Rally di zona, il Piemonte è stato diviso in due zone, il Rally Viglietti Monferini fa parte della zona che è stata divisa insieme alla Liguria, fa parte di questa zona anche il Rally Lagrappolo. 2, 1, vai, 20, a scendere, inversione sinistra, bravo, vai, 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 100, alla siepe, ritarda sinistra, 5, sinistra 2 che scende, 30, tornante destro 20, In sinistra 4, vai, 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 fidati, in destra 3 su Bivio, questa volta a destra, 30, Vai, sali, vai, 30, In destra 4, in sinistra 5 lunga Rail, in destra 5, in sinistra 5, 30, 30!